Sì! Dobbiamo dirvi una cosa? Importante! Nel 2020 Gracie diventa una big sister! Sì! Big sister! Big sister? Insomma ve l'abbiamo detto! Eh? Dov'è il baby? Nella pancia? Nella pancia? Sì? Sì? Contenta? Baby! Ma quando viene fuori il baby ci giochi? Sì! Fai la brava? Sì! O fai la monallinis? Tutte e due? Cosa fai vedere? Ragazze ragazze ho pensato di dirvelo perché stavolta rispetto all'altra volta dove poi comunque l'avevo tenuto anche un po' di più nascosta la notizia perché non si vedeva tanto stavolta diciamo che già un mese fa quando siamo andati a Miami, cosa fai? Già si vedeva e in realtà era molto gasta all'epoca poi è andata un po' giù poi adesso sta tornando la pancia e quindi insomma non potevo tenere la nascosta per tanto a meno che non mi facevo solo vedere di viso però sì sono al quarto mese, questa qua è una monella, sono appena uscita forse speriamo, adesso mi porto spiega, dal periodo delle nausee che è stato tremendo perché sono stata malissimo per due mesi, è stato veramente veramente dura ma anche con Grace era stato lo stesso cioè infatti mi ricordavo il periodo delle nausee come il periodo più brutto della mia prima gravidanza e non sbagliavo, anche stavolta è stato male proprio, male 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 vuoi darmi un bacino? Grace quando ci fa male mi dai bacino di amore, grazie amore, grazie quindi quando è che arriverà? Ad aprile ci stavamo pensando da un bel po' più caldo perché comunque la nostra vita non è proprio regolarissima io viaggio spesso, vengo in Italia anche solo per due giorni, anche con Grace, sappiamo che i viaggi sono duri poi con un bambino, figuriamoci con due, come saranno? però poi diciamo che i pro erano più dei contro e essendo poi io figlia unica ho sofferto un po' quando ero piccola mi ricordo come stavo, quindi volevo poter dare questa possibilità a Grace e ci abbiamo provato in realtà sapete quanto è stata dura per me restare incinta di Grace, ci sono stati più di un anno e comunque ci sono stati degli aborti qui invece parlo schiettamente al primo colpo